Perchè così fuori una, capito? Eh, quello è! Secondo me la strategia è fuori, fuori, fuori! Il scalo sta scendendo a piedi, lui, sta lavorando. Puoi scendere la velocità? Assolutamente. Puoi scendere la voce? Puoi lo vieni a controllare? No, sali! Sì. 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 Grazie. 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 No, non si capisce. Adesso i capelli così lunghi li portano anche i maschetti. Grazie a tutti.